Cari amici del nostro canale. Bentornati. Oggi siamo qui per svelare il mistero dietro l'assenza di Armando incarnato a uomini e donne e cosa si è realmente verificato durante il suo ritorno nella famosa trasmissione di Maria De Filippi. Pronti a scoprire tutti i dettagli e le emozionanti rivelazioni? Armando incarnato, il cavaliere che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la sua lunga assenza, ha finalmente rotto il silenzio. Durante il suo ritorno, ha svelato le ragioni dietro la sua lontananza. Affrontando critiche e aspettative. Problemi personali delicati hanno caratterizzato questo periodo. Ma il suo riavvicinamento al programma è stato guidato dalla sua vicinanza a una persona a cui tiene profondamente. In un momento toccante durante le registrazioni, Armando ha chiarito la sua situazione con Ida Platano. Amica di lunga data. Ha spiegato perché ha mantenuto il silenzio. Temendo che la sua partecipazione avrebbe potuto svelare dettagli personali alla sua ex fidanzata. Alessandro Vicinanza. Una scelta difficile dettata dalla preoccupazione e dal cuore. Inoltre, Armando ha condiviso la sua opinione su Barbara De Santi e Roberta di Padua. Le quali hanno spesso criticato il parterre maschile. Con un tocco di ironia. Ha espresso accordo con le due donne. Scherzando sul loro potere di trasformare qualsiasi principe in ranocchio. Un mix di emozioni. Verità e sorprese. E così concludiamo questa affascinante rivelazione su Armando incarnato a uomini e donne. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like, condividere e commentare le vostre opinioni qui sotto. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessuna delle intriganti storie che vi portiamo ogni settimana. Ci vediamo al prossimo video.